salve care amiche e cari amici io ieri o l'altro ieri ho fatto una live nel mio canale secondario santin chan parlando del presidente della repubblica argentina della repubblica federale argentina javier mi lei è durata più di un'ora e ho detto quasi quasi l'avrei fatto nel mio canale principale ma è che lì mi stanno a seguire persone da latino america e quindi ho fatto un botto di visualizzazioni come non mai nel mio canale principale dove uscirà questo video ho ripreso a fare i video come li facevo una volta cioè circa 11 anni fa perché questo canale di youtube ne ho avuti altri li ho cancellati l'11 febbraio di quest'anno del 2024 compierà 11 anni il 7 febbraio non so se detto l'11 il 7 febbraio 2024 questo canale farà 11 anni allora fatemi già in anticipo gli auguri io sono uscito di casa dopo non so se mi filmerò in altri in altri frangenti spero questa volta di aver attivato bene il microfono perché se no non carico questo video e come potete vedere sto fuori casa perché mi chiedono sempre perché non ti filmi fuori casa perché non ti filmi fuori casa io appena ne ho occasione mi filmo fuori casa allora mi raccomando fatti bravi poi vediamo se ci sarà un altro frammento di video per editarli tutti insieme ringrazio molto il ph giova che mi ha dato l'ennesima donazione attraverso super grazie perché ho fatto il video tutorial di come preparare il mate adesso mi chiede di parlare di javier mi lei nel canale principale che è monetizzato il canale secondario non è monetizzato quindi il carico dei video lì per il gusto di caricarli e il mio canale secondario quale in pochi giorni sono arrivato ai 500 iscritti perché mi sono messo a pubblicare un sacco di short che hanno fatto visualizzazioni ma c'è anche altri canali sante anche ci hanno 200 300 400 iscritti o meno 180 e quindi mi sta andando tutto abbastanza bene faccio questo video che è una comunicazione di servizio anche perché sono riuscito a recuperare una targhetta micro sd da 32 gigabyte che aveva rifiutato di utilizzare dopo che ero riuscito a recuperarla la camera fotografica compatta della sony e che non ha accettato il motorola moto e 7 i power e invece questo nokia asha 302 vedo che adesso la accetta devo vedere come vengono i video e se rimangono registrati nella targhetta di memoria perché è strano che un cellulare android 10 go edition non accetta la targhetta di memoria e l'accetta un nokia asha 302 è molto strana la cosa però vabbè faccio questo video così tanto per dire cose cose di ogni giorno intanto siamo venuti per un pelo al negozio perché in questo momento stanno chiudendo le serrande quindi siamo arrivati proprio per un pelo a comprare non vi dico che cosa abbiamo comprato perché tanto nel supermercato e così sembra che hanno rotto qualcosa hanno fatto il patatrac hanno rotto un bel po di cose io sentivo da molti minuti è caduta una casa di bottiglie di vino di spumante di frizzantino di spumante rosato e ai 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 e si sono rotte come minimo una mezza dozzina di bottiglie una mezza dozzina di bottiglie si sono rotte e va bene facciamo contenuto vediamo se anche questa volta posso eliminare la musica di fondo perché youtube l'ha eliminato e niente cercavo una micro sd andiamo a comprare la micro sd che mi serve per il cellulare ai pro f168 che ho regalato a mia madre vediamo un po ci dovrebbe essere qua intanto ho messo questa da 32 qua dentro incredibile sembra che aumentata sembra che aumentata eccola qua non so se ce n'è un'altra questa che classe classe 10 credo che sia classe 10 c'è da 128 da 32 e da 16 ma il cellulare nuovo ne supporta soltanto ne supporta soltanto 16 quindi se non se non lo uso nel cellulare nuovo che ho regalato a mia madre la micro sd la metto in quest'altro cellulare ma quest'altro cellulare per fortuna sta supportando poi vediamo che altre cose potrei comprare niente niente perché auricolari ho già presso il microfono che non va in questo cellulare perché è incredibile tutto aumenta giorno dopo giorno adesso vediamo di trovare mamma per fortuna che mi ha regalato a marzo del 23 per natale compleanno mi ha regalato mi ha regalato il motorola e 30 versioni perché è molto buono e poi stanno aumentando molto il cellulare poi c'è il motorola e 7 e power poi vediamo un po scegliere vestiti è difficile perché ci sono 10.000 taglie taglia americana europea cdl 3dl 50 150 la gallina canta e veramente non si riesce come si riesce a scegliere un vestito perché a volte ti sta bene ma non riesce a trovare un altro che ci abbia la stessa taglia un altro che abbia la stessa taglia io adesso cerco mia madre perché lei ha fretta di andarsene via vediamo un po e mi filmo per fare un video da trasmettere perché voi dite sempre che io non filmo fuori casa e vabbè adesso speriamo che questa musica non mi crede i problemi tanto lo metto in privato questo video eccoci qua allora dobbiamo uscire dobbiamo andare perché insomma c'è troppo troppo casino troppa gente poi a quest'ora capito io filmo perché si faccia un minutaggio quanta carta già l'ho detto in un video che ho caricato dieci anni fa dieci anni fa guardate quanta carta la maggior parte non è che tutti gli alberi si tagliano nell'amazzonia per fare dei libri e distruire la gente e no e no cari miei il 90 per cento della carta che si produce in tutto il mondo a partire dagli alberi dell'amazzonia guardate guardate quanta guardate quanta carta igienica si fa per asciugarci si guardate guardate tonnellate tonnellate allegria tonnellate di carta igienica e tutto questo tutto questo per asciugarsi il nobile di aderetano quindi inquiniamo mangiando ed inquiniamo anche asciugandoci utilizzate l'acqua non siate porci utilizzate acqua e sapone guardate 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 qua guardate quanta carta igienica pazzesca quanta carta igienica quanta cellulosa sprecata si potrebbe fare in un altro modo o devo cercare la coscia esplosiva vediamo un po dove la coscia ha eccola qua quanta carta igienica quanti alberi quanti animali per i nostri testo e il giorno con il mio punto no 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 ecco abbiamo finito abbiamo finito abbiamo finito siamo con la spesa abbiamo preso solo un paio di pantaloni un panettone e la scheda micro sd che casino no 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 guarda che belle che alla castella che belle torte e beh adesso ce ne andiamo finalmente di qua ancora pomeriggio magari saranno le sette di sera chi lo sa che casino adesso devo chiudere c'è musica nel parcheggio questa si che me la che me la penalizza che casino di musica forse questa parte del video non viene ma dovrò tagliare vediamo che mi dice youtube è un casino pazzesco che casino ma che stanno a fare ma ciao ciao a tutti ciao